salve ragazzi bentornati su una pixel channel qui vi parla sempre vostro amico mago di paese e siamo qui per la parte 2 della diciamo così puntata conclusiva dell'innesto del nocciolo stagione 3 e abbiamo visto nella puntata precedente quali sono i motivi per innestare nocciole quali sono i vantaggi che ciò comporta ora questa puntata andiamo a sfatare un po' quelli che sono le leggende agricole sull'innesto del nocciolo se avete parlato in giro e soprattutto con certi vivaisti o per meglio dire certi pseudo vivaisti soprattutto della mia zona vi avranno detto tutta una serie di motivi per cui non bisogna innestare nocciolo come dicevo se esiste un movimento no vax un movimento no tap no caccia ho visto che c'è anche un movimento no cd la cimice per dire nel mondo c'è il movimento tutto va da sé che non poteva non esistere movimento no innesto il nocciolo perché certa gente dice che non bisogna innestare nocciolo la prima motivazione è una motivazione classica cioè la normale repulsione umana al cambiamento quindi se non lo faceva il nonno di tuo nonno non lo devi fare neanche te questa è una cosa che mi è stata detta me ne hanno detto di tutti i tipi mi hanno detto ora porterei delle piante da fuori farei morire tutte le altre se non lo faceva nei nostri nonni perché devi farlo te eccetera eccetera ovviamente queste sono delle merite stronzate che non meritano neanche commenti ma venendo più nello specifico una cosa che si sente dire soprattutto sui social e come dico da qualche pseudo viveista sono non comprate le piante in estate che sono piante che costano carissime si rompono nell'innesto ora scendendo nel dettaglio specifico di questo vediamo quali sono i costi allora probabilmente se acquistata una pianta dai viveisti saranno sicuramente a un prezzo decisamente molto alto questo è una problematica dovuta al fatto che l'attuale procedura viveistica per quanto efficace non è sicuramente economica tendenzialmente molti tendono a far micropropagare il corillo scolorna che ha un costo triplo rispetto a una pianta da seme come abbiamo detto l'altra volta li tengono in vaso li devono svasare li devono far innestare far attacchire l'innesto sottosera spostare tutti questi vasi ha un costo enorme e dico per quanto efficace come pratica è una pratica che non ha senso perché comunque non permette la diffusione del prodotto in quanto i costi sono sicuramente insostenibili mentre invece nel paese dell'est europa hanno meno cazzi diciamo così e quindi li seminano sul posto quando nascono e innestano sul posto poi ci sarà lo stress da trapianto che non abbiamo per quelli invaso ma il risultato la pratica è molto più economicamente sostenibile nel caso specifico nostro abbiamo visto che acquistando le piante ne stando sul posto il costo è stato sigo ma se non vi avevo parlato del prezzo delle piante la scorsa volta quindi se andiamo nello specifico del costo del corio scolorna allora siamo partiti con le prime forniture cinque anni fa dove il costo era di 56 centesimi a pianta più iva per arrivare all'ultima fornitura quella di questa primavera dove siamo andati poi siamo arrivati a 76 centesimi a pianta più il trasporto che costa abbastanza caro ma dipende quando se ne prende più il cassone sostanzialmente comunque meno di un euro a pianta quindi il fatto che le piante costano care dipende da come si fa ovviamente se l'attuale procedure vivaistiche non consentono di fornire delle piante un prezzo ragionevole è normale che poi chi le vuole si deve aggiustare da solo per questo serve un po di sbattimento ma non si può avere la capra e cavoli bisogna anche applicarsi per se si vuole ottenere qualcosa quindi abbiamo appena determinato che il discorso del prezzo è vero e non è vero la seconda super puttanata che si dice è quella che le piante si rompono nell'innesto ora se noi vediamo queste piante cioè si vede come soprattutto innestandole da piccole e essendo ben preso l'innesto non si può dire che queste piante si rompono nell'innesto ora ci colleghiamo con il nostro inviato che vi fa vedere anche dove le piante sono state attaccate dai cinghiali piante di diverse misure questo non è stato ha dimostrato che l'innesto comunque non è l'innesto che si va a rompere perché questo è veramente ben saldo quindi passiamo la parola al nostro inviato ci rivediamo qui tra un secondo bene ora parlando del resistenza dell'innesto alle sollecitazioni abbiamo qui una pianta particolarmente compromessa non per il fatto che fosse innestata ma per il fatto che è stata diciamo così massacrata dai cinghiali e possiamo vedere come il punto più debole è stata la parte superiore dove partiva la biforcazione tra le due rami essendo stato fatto l'innesto con due marze questa è la situazione più compromettente che si può verificare vediamo che in questo caso si è rotta fino sopra l'innesto l'innesto non ha ceduto dimostrazione di quanto comunque ben preso e quindi adesso cosa succede su questa pianta se il prossimo anno ci sarà qualche germoglio che andrà a germogliare qua sopra la potremo recuperare diversamente ma questo è un caso abbastanza raro di solito in tutti i casi dove i cinghiali le hanno rotte adesso vedremo qualche tra pianta sono rimasti degli occhi di sopra non è una bella situazione ma qualora proprio la pianta non dovesse germogliare abbiamo già comunque un germoglio quindi partendo dalla base fondamentale che è più importante cosa c'è sotto che cosa c'è sopra crescerà un nuovo germoglio che andremo nuovamente a innestare e nel giro di un paio d'anni la pianta tornerà in corsa come quasi se non fosse stata rotta quindi non è che se comunque anche nel peggiore dei casi andassimo romperla fin sopra l'innesto e come dico non è un problema di innesto infatti si evince che l'innesto ha retto perfettamente anzi sembra che quasi sia più resistente alla parte dell'innesto che il resto non perdiamo comunque la pianta verrà su un nuovo germoglio che andremo nuovamente ad innestare ma probabilmente ci sarà qualche occhio che andrà a germogliare anche sul prossimo anno nella maggior parte dei casi questo è successo bene qui invece abbiamo un altro tipico esempio di cosa succede quando per un motivo per quanto improbabile o imponderabile le cose vanno storte in questo caso abbiamo una pianta che come si vede ha preso qualcosa nella parte del colorno non so se è stato attaccato da qualche animale da qualcosa da un cancro non lo so comunque a un certo punto la pianta sopra ha iniziato a seccare perché abbiamo questa problematica che come si può vedere abbastanza importante in realtà subito non me ne ho accorto e questa qui era una pianta che dovevo visto che era uscito comunque germoglio l'avevo tenuto per fare un esperimento nello specifico era un innesto e margotta con un margotta con acqua il margotta con acqua è fallito per questo l'ho riavvolto col nastro per farlo di nuovo saldare questo sta anche a dimostrare quanto perché le piante sono riprodotte per seme o per micropropagazione il taleaggio non è un'ozione fattibile ma neppure margotta con margotta con lei fa le radici sul fusto a parte questo avevo fatto una margotta ad acqua ed innesto in un colpo solo avevo fatto un innesto occhio che ha già attaccato successivamente quando mi sono accorto del problema della pianta perché ha iniziato a seccare verso il tardi e staccando la corteccia mi sono accorto che aveva il problema ho fatto ancora degli altri innesti super tardivi che ci permette di sperimentare anche fino a che punto possiamo arrivare l'innesto comunque un innesto ha già attaccato quindi il problema di questa pianta non è un problema questo turno andremo a segare la pianta gli daremo un po di catrame prossimo anno abbiamo già nostra pianta anzi addirittura meglio perché col fusto più alto con l'innesto che già attaccato quindi il problema non esiste in un paio di anni si rimetterà al pari con le altre piante ragazzi qui invece vediamo cosa è successo dopo i danni del cinghiale questo qui un pezzo in realtà sono due pezzi posti in una posizione particolarmente infelice possiamo tranquillamente vedere che non ci sono piante che non sono state attaccate la cinghiale praticamente ogni anno torno indietro di due e qui nello specifico abbiamo una pianta che è stata attaccata l'anno scorso possiamo vedere che è stata rotta subito sopra l'innesto e vediamo come sono partiti comunque i ricacci da sopra l'innesto l'innesto ovviamente non si è rotto il fatto che l'innesto si possa rompere veramente un caso raro e comunque vediamo che in poco tempo la pianta andrà a recuperare quindi anche il discorso di non posso mettere piante in estate perché l'estate perché i cinghiali me li rompono è un discorso che lascia il tempo che trova il problema come dico sono sempre i cinghiali e non l'innesto e i casi proprio dove siamo stati costretti a partire con un ricaccio dal colurna sono veramente rari e parliamo di una pianta su 20 25 o nemmeno quindi anche questo è un altro mito da sfatare ok siamo tornati abbiamo visto che il discorso dell'innesto della debolezza dell'innesto non ha nessun senso di essere raccontata e vediamo quali sono le altre cose che si dicono per cui non inestare il nocciolo allora altri dicono che non bisogna inestare le piante per fortuna che non le piante in estate perché ha fatto freddo le piante sono gelate e così posso tirare sui polloni allora questa qui è una pianta il colurna che resiste a temperature fino a meno 30 gradi quindi questo non gela se avessimo avuto una pianta piccola e fosse gelata la parte sopra probabilmente non sarebbe gelata fino a arrivare l'innesto e ricapitozzando sopra l'innesto probabilmente avrebbe ricacciato se un'altra cosa non le posso mettere perché ho i cinghiali non le posso mettere perché caprioli permettendo che quello degli animali selvatici è un problema che va oltre l'innesto se gli animali selvatici è un problema di animali selvatici non di innesto ma non solo non è una cosa negativa aver l'innesto se agli animali selvatici ma può anche essere un modo per togliere il problema degli animali selvatici soprattutto se li innestiamo sul posto e se li innestiamo veramente alti e andiamo impalare la pianta cominciamo già a poter mettere la rete per i caprioli senza problemi perché non fa i polloni quindi possiamo mettere una rete stretta che ho visto anche al di là di fuori questo pezzo che è accintato col filo elettrico che i caprioli non sono un problema se mettiamo una rete e i cinghiali sono tutt'altro problema in considerazione di quello che è successo anche con i cinghiali se dovesse ripiantare un pezzo probabilmente mettere un palo vicino ad ogni pianta la pianta più alta e la legherai contro il palo per evitare che i cinghiali li rompono poi non è che se la pianta non è innestata i cinghiali non la rompono e non è che se continuiamo a far uscire dei polloni questo migliora la situazione perché poi la pulizia della pianta diventa sempre più complicata a misura che aumentiamo la quantità di polloni che escono da terra quindi anche quello è un commento che non ha nessun senso detto questo non se non si capisce come la gente possa pensare che non sia meglio innestarla è un altro è un'altra diciamo così super bufala che si spara è quella che piantando la nocciola normale sostanzialmente la pianta è eterna perché la puoi rinnovare allora diciamo che sostanzialmente la vita media del coroio scolorna supera sicuramente i cento anni si sa di piante che superano anche i 500 anni quindi comunque abbiamo un portinnesto che non arriverà alla fine per la nostra attività produttiva personale probabilmente neanche quella dei vostri figli e dei vostri nipoti quindi è ragionevole supporre che quando la pianta raggiungerà una certa età quando avrà il momento di rinnovarla basterà intestarla sopra l'innesto facendo una tipica testa di salice questa andrà a ricacciare sopra l'innesto si rinnoverà ma questo accadrà sempre senza che andando a capitozzare per rinnovarla ci esca un mondo di polloni creandoci un lavoro enorme quindi continueremo avere il nostro tronco pulito senza polloni e la pianta rinnovata e probabilmente non so per quanto ma probabilmente potremmo mantenere l'impianto molto più tempo di quanto non riusciremmo a fare con delle nocciole tradizionali e con questo direi che abbiamo siamo andati a riassumere tutto a riassumere nonché a confutare ragionevolmente tutto quello che è detto dal movimento no innesto e con questo direi che possiamo terminare questa seconda parte della puntata conclusiva e ci sarà successivamente la terza puntata dove scenderemo in dettaglio per vedere quali sono i tipi di nesti utilizzati e i periodi quindi per adesso guidiamo ci vediamo la prossima puntata sempre qui su inepixel channel ciao a tutti